Cristopher Attis, vincitore del premio Gran Galà del Triveneto, quindi miglior giocatore del Trento della passata stagione. Cristopher, soddisfazione di ritenere un premio così importante? Sono molto contento di ricevere questo premio, per me è un inizio di partenza per la mia crescita e volevo anche ringraziare i miei compagni di squadra e la società per questo premio. Ricordiamo che tu sei arrivato al Trento a gennaio scorso, hai avuto un impatto importante con tre gol, un assist e hai contribuito in maniera determinante alla salvezza del Trento. Sì, sono arrivato a gennaio, mi sono trovato molto bene con i miei compagni di squadra, che con loro siamo riusciti a raggiungere la salvezza, ho fatto anche tre gol e un assist, quindi per me è andata abbastanza bene. E quest'anno già hai preso a segnare e quindi a essere determinante appunto? Sì, quest'anno ho fatto tre gol e dobbiamo continuare su questa strada che stiamo facendo abbastanza bene, solo che dobbiamo avere un po' più di continuità. Ecco, come sta andando secondo te questa stagione del Trento? Sta andando abbastanza bene, noi dobbiamo continuare a lavorare giorno dopo giorno e basta. L'ultima partita avete vinto 1-0 con l'Arzignano, adesso una settimana di lavoro e domenica una sfida importante è in trasferta contro il Mantua, che partita vi aspettate? Noi sappiamo che il Mantua è una squadra molto forte, noi già da questa settimana dobbiamo lavorare per affrontare bene il Mantua.